Fino a domani, Winter in Nerd, anima battipaglia, costola del Salerno in fantasy, la manifestazione racchiude il mondo degli appassionati di giochi e videogames. All'interno di Serre d'Inverno, presso l'ex scuola di amici sin Piazza Mendola, l'evento regala a tutti gli appassionati di giochi di ruolo, fumetti, videogiochi, momenti ludici. La manifestazione, a ingresso gratuito, coinvolge tutti con giochi da tavolo, GDR Live, una retrospettiva sul mondo dei videogames e le spettacolari stanze laser. L'orario di apertura dell'evento è previsto per le 11 e proseguirà fino a sera. Salerno in fantasy sbarca a battipaglia, di che cosa si tratta? Salerno in fantasy è una convention interattiva. Noi ci occupiamo di dar vita a tutto il mondo del fantastico, prendendo spunto dai film, quindi dalla cinematografia e dall'editoria, come ad esempio Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Il Trono di Spade e così via. La manifestazione Salerno in fantasy è una manifestazione estiva che si tiene a Salerno, nel periodo di luglio-agosto più o meno, e al suo interno contenuti come giochi, videogiochi, spettacoli dal vivo, aria food e così via, però tutto contestualizzato nel mondo fantastico. Fino a quando resterà aperta questa sorta di mostra a battipaglia qui nella scuola di Amicis? Allora, a battipaglia abbiamo realizzato la nostra costola invernale del Salerno in fantasy, che è il Winter in Nerd, anche perché condividiamo gli stessi ideali che muovono i ragazzi della zona di battipaglia che ci hanno invitato e che abbiamo conosciuto poi nel corso degli anni. La mostra più, l'area ludica potremmo definirla, perché abbiamo portato qui tutte le attività di gioco da tavolo e videogioco, durerà fino a domani 29 dicembre, dalle 10.30 fino alle 20, con principalmente una serie di aree di giochi da tavolo, videogiocchi, aree libere, quindi con ingresso gratuito, e con tante associazioni che partecipano a far provare e insegnare questi giochi. L'esponsabile area giochi qui nella scuola di Amicis, quali sono quelli che vanno la maggiore in questo periodo, ma sempre diciamo, quali sono i più richiesti giochi da tavola? Diciamo che sicuramente stanno andando molto i giochi di Star Wars, e in questo evento abbiamo deciso di portare un'area totalmente dedicata a Star Wars, quindi grandi classici come Carcassonne, però in versione Star Wars, Monopoli in versione Star Wars, e anche vari giochi particolari come giochi di miniature, giochi da tavola, assalto imperiale, X-Wing, proprio dedicati a Star Wars, ma vanno sempre, anche tanto, con gli amici del Guiscardo, i grandi classici come Double, Tabu, Camel Up, giochi da tavola sempre giocati e sempre rigiocabili, che permettono di giocare anche a grandi gruppi di persone e anche ai più piccoli, anche se restano gli adolescenti e i ragazzi intorno ai 20 anni quelli a giocare di più, appassionarsi di più al gioco da tavolo. Quindi chi viene qui cosa fa? Chi viene qui gioca, gioca tanto, gioca in gruppo, gioca con persone che conosce già e con persone che viene a conoscere proprio grazie a un evento del genere. Si appassiona, parla degli interessi che vengono sviluppati grazie al gioco da tavola, come può essere Star Wars, ma è solo un esempio. Ci sono anche giochi investigativi su Sherlock Holmes che portano a parlare di letteratura, che portano a parlare di altro mondo dell'investigazione. Proprio ieri abbiamo fatto una partita ad un gioco investigativo che coinvolge tante menti per risolvere un caso e stimola l'intelletto grazie al gioco e si diverte. Che cos'è il meristema? Allora, il meristema è un'installazione che prende il nome dal meristema, che è una cellula vegetale che corrisponde a grandi linee alle cellule staminali del mondo animale. Quindi sono delle cellule che consentono alle piante di rigenerarsi e quindi anche di creare i famosi cerchi che troviamo nei tronchi degli alberi che corrispondono appunto alla storia della pianta, per esempio il cerchio più scuro, una stagione più secca e così via. C'è da dire che le piante durante il loro ciclo vitale ci raccontano una storia e fanno tutto ciò in silenzio. Con questa installazione ho voluto permettere alle piante di raccontarci una propria storia sotto forma di suoni. I vecchi floppy disk riutilizzati per fare musica? Sì, questa installazione in pratica utilizza dei vecchi lettori floppy disk che adesso non sono più utilizzati e che sono anche dei famosi rifiuti rai che quindi sono difficilmente smaltibili per creare musica. In questo caso io sfrutto quel tipico ronzio che facevano i vecchi floppy per appunto creare musica. Ogni floppy diventa uno strumento e ogni strumento suona una sua partitura. Quindi ho creato questo selettore dove ogni floppy spostato nel selettore centrale seleziona una canzone che poi viene riprodotta. Soll'idea come funziona. Nella De Amicis in questi giorni è presente anche l'associazione Avalon, di che cosa vi occupate? Allora, Avalon innanzitutto è un'associazione di promozione sociale, quindi noi ci occupiamo di tutto quello che oggi è territorio, ma soprattutto giovani, dal gioco di ruolo dal vivo all'esperienza di tiro con l'arco dinamico, ma soprattutto alla formazione per i ragazzi e le opportunità che possono esserci sul territorio. Insomma, qualcosa che cerca di seguire tutto il percorso della vita giovanile, sia nel tempo libero che soprattutto nella professione e nella formazione. Cosa offrite alle persone che vengono qui? Allora, oggi siamo qui con la nostra esperienza di gioco di ruolo dal vivo che si chiama L'Eredità di Sadria, un'esperienza da noi creata e soprattutto al suo primo anno di vita. Oggi inizia ufficialmente l'avventura dal punto di vista della campagna in cui i ragazzi possono partecipare con i nostri appuntamenti dal vivo. Oggi c'è un po' di sport unito a questa attività teatrale, ma soprattutto il gioco da tavola e quindi tutto quello che riguarda i giovani, insomma, nel senso più ampio del divertimento. Grazie. Grazie.